Vuoi vincere skin e pass battaglia con qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? E' molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche Lasciare un bel like a tutti quanti i miei video, condividere a tutti quanti i tuoi amici Infine mandami la richiesta sul mio account E ovviamente più amici farai iscrivere e più possibilità di vincita avrai Se vuoi puoi anche supportarmi nello shop con il mio codice creatore Firex-Wals-Taken Se shoppi con il mio codice inviami le foto su Instagram Link in descrizione In questo modo avrai possibilità di ricevere regali da parte mia su Fortnite Ciao a tutti ragazzi, io sono Firex Oggi ragazzi andremo a completare il primo incarico delle sfide della guia di questa settimana Ragazzi, riproduci il messaggio della guia nell'avamposto di una guardiana Ragazzi, ci troviamo esattamente vicino a Fortezza Furtiva Questa è la posizione Qui al centro, all'avamposto per cui è la torre guardiana Troviamo questo messaggio Schiacciamo e interagiamo E la sfida prima sarà completata Niente raga, da Firex è tutto Se questa guida vi fosse stata utile Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Niente raga, noi ci vediamo con un prossimo video Bella raga